Musica Belli raga, non mi si vedrà tanto perché non c'è luce però guarda dietro quanto è bello Vabbè comunque raga volevo dire tipo due cose importanti Veloci tranquilli quindi non vi annoierò Primo volevo ringraziare ogni persona che mi ha sostenuto Ogni persona che ha scritto nei commenti Dani continua Mi avete veramente motivato Mi avete veramente aiutato Perché alla fine il video precedente ho lasciato il canale a voi Dovevate decidere voi se chiudere il canale o continuarlo E la maggior parte delle persone hanno deciso di continuarlo Quindi veramente raga grazie mille State veramente dei grandi Vabbè la vlog family batte tutti Comunque ho deciso di portare non nuovi contenuti Però cambiare un po' come io mi comporto nei video Tantissime persone stanno dicendo che mi comporto in modo diciamo falso Che non faccio vedere il vero me E questo ho capito forse Sembro falso perché sono troppo energetico E là hanno un po' ragione Perché nei video sono molto più energetico E nella realtà Questo diciamo è il vero me Come sono nella realtà Tutto calmo e bella E quindi ho deciso che i nuovi video che farò Tipo altri due tre Li farò così da calmo Come il vero me E fatemi sapere nei commenti Quale preferite La versione di me un pochetto più energetica O la versione di me diciamo scialla calma Che alla fine è più vera E dai raga iniziamo con la parte diciamo divertente del video Oh finalmente mi vedete la faccia seriamente E là non si vedeva niente Quindi iniziamo con gli obblighi e le domande vai Bella raga sto nella sauna Ho tipo quattro cappotti E' bellissimo Comunque Cosa hai fatto per Natale? Allora raga vi sto per dire una cosa stranissima eh Sembra un po' strano Però seriamente per Natale Ho registrato la faccia di questo fecio Che non è mio nonno Non so tipo Cos'è per me Però lo conosco Cioè lui fa parte della famiglia Comunque gli avrò registrato la faccia almeno sei volte Perché è davvero troppo pati Raga per chi non sa che vuol dire pati Vuol dire tipo carino E guarda ora vi faccio vedere i video Ti manca Valerio Ragazzi serio mi manca davvero tanto Valerio Non so perché la gente ancora su Youtube o Instagram dice che tipo Io e Valerio ci odiamo e stiamo litigando perché non è vero Ci parla ancora con Valerio e ci esco pure Però serio no no Valerio lo amo Cioè pure se ora sta in culo Sta a Miami Mi manca però non ci vediamo abbastanza Quindi dovrò rimediare E se vi volete pure un video con me e Valerio Tipo Dani e Vale Scrivete nei commenti Però normalmente quando noi ci vediamo Non è che registriamo Facciamo queste cose Prossima domanda Ok raga Qualcuno mi ha chiesto di far vedere le decorazioni natalizie Ed è sera Quindi ora ve lo faccio vedere Guardate qua Boom Boom Che figata E poi c'è questa lucetta qua Che non lo so Tipo spara tutta la luce sulla casa Guardate qua Che figata Poi entriamo E ci abbiamo un albero di Natale più figo al mondo Serio raga è un casino perché da mo che non è più Natale E quindi lo dovremo levare Però sono piccolo come la merda e non mi va Quindi boh Rimangono fino all'estate non lo so Arrampicati su un albero E fai il re leone con un cane No raga serio piscio Piscio per chi non lo sa vuol dire non lo faccio Però vi faccio vedere qualcosa che è molto meglio Di la cosa da fallito che dovevo fare io Fai un I call you Serio gli è sta Lo faccio subito Vai raga trovate il numero Ora chiamo Oddio pronta Ciao amore Oddio Come va? Che mi racconti? Oddio la mia macchina Pure te Tanto Mai mi ricordo di te Ci siamo pure visti davanti a casa di Valerio no? Sì Eh Come va a Natale? Eh Vabbè O comunque saluta il video eh Ciao Ma Pure te tanto amore Vai raga Vai raga Se chiudo gli occhi Se chiudo gli occhi solo per vederti In questo film ci sei tu Ehi I titoli di Coda stanno fermi Siamo noi che andiamo giù Ehi Siamo noi che andiamo giù